Oggi che è la giornata internazionale della violenza contro le donne abbiamo una proposta concreta rispetto magari a tante iniziative bellissime ma più discorsive se vogliamo e più concettuali che proviene dal gruppo di Azzurro Donna di cui io sono coordinatrice regionale. L'idea è nata a livello nazionale tanto che proprio in queste ore c'è una conferenza stampa alla Camera in cui verrà presentato un progetto di legge sul soccorso di libertà a livello nazionale. Contemporaneamente anche in tutte le regioni noi esponenti di Azzurro Donna abbiamo proposto di fare una legge regionale analoga anche nelle regioni e in Regione Abruzzo il nostro gruppo consigliare di Forza Italia ha ben accolto la nostra proposta e quindi anzi colgo l'occasione anche per ringraziarli. Si tratta di un'iniziativa importante perché oltre all'istituzione di questa proposta di legge c'è anche la creazione dell'osservatorio regionale sui centri di antiviolenza che ad oggi non esisteva e credo che sia assolutamente fondamentale per un ottimo coordinamento anche dei lavori tra i centri di antiviolenza. Il soccorso di libertà consiste in una sorta di reddito di libertà se così può essere definito unitamente anche alla possibilità per le donne vittime di violenza di potersi reinserire nel contesto sociale ed anche economico perché spesso e volentieri da un'analisi è emersa che molte donne fanno difficoltà ad esporre questa difficoltà che loro appunto vivono nell'ambiente domestico perché anche dalle statistiche emerge che purtroppo spesso le donne sono vittime proprio dei loro partner o dei loro ex partner. La loro difficoltà è quella di essere comunque dipendenti anche economicamente da queste persone purtroppo e quindi abbiamo pensato di dar loro uno strumento, una chiave per poter tagliare con questa situazione assolutamente tragica e poter avere la speranza di ricostruire anche una propria autonomia non solo a livello economico ma anche a livello sociale e lavorativo tant'è che la legge prevederà l'istituzione di convenzioni con delle aziende che potranno reinserirle attraverso un percorso anche formativo all'interno delle loro aziende e quindi rimetterle nel mondo del lavoro, cosa che oggi non è assolutamente semplice.